attenzione questo video non è fatto per offendere nessuno quindi lascia un like e goditi il video ciao a tutti ragazzi e ragazzi e bentornati in un nuovo video io sono Viviana e oggi faremo gli slime pet biz mi sembra che si dice così ora faremo le persone che fanno cioè che giocano con lo slime in un modo che non si dovrebbe giocare primo schiacciare lo slime con un solo dito due le persone che hanno paura di massacrare lo slime e lo schiacciano pochissimo prima che farebbero male lo slime tre le persone che schiacciano il proprio slime troppo lentamente quattro le persone che lo schiacciano con una velocità immensa cinque le persone che toccano lo slime con le mani sporche scusate però non avevo un altro slime quindi diciamo così chi schiaccia il proprio slime con una ripresa troppo avvicinata sei chi schiaccia il proprio slime da un'inquadratura molto professionale diciamo e quindi devo scredenti ma tanto nessuno ci ha sentito quindi quindi ragazzi questi erano gli epi fail diciamo pet biz ditemi se ne volete altri e ditemi anche quali fare iscrivetevi al canale condividete il video lasciate tanti pollici in su e in descrizione trovate tutti i miei social e niente ciao ragazzi scusatemi lo scordo di pescare il bigliettino come al solito scrivetemi sotto nei commenti che è bigliettini mettere e qui scuriamo 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 questo giallo comunque io ho sempre gli occhi chiusi ora ce li ho aperti naturalmente verresti vorresti volevo dire vorresti avere un iphone e io rispondo no perché già io ho un telefono buono e quindi non c'è bisogno che mi comprerei un altro telefono solo perché tipo uscito l'iphone x non c'è tipo è uscito l'awei p no p 10 ma non è che io siccome ho il p 8 me lo vado a comprare cioè io non sono viziata che io faccio così che poi io passo a quello precedente io non faccio così quindi basta che avanza il mio telefono se si spacca magari prenderei un altro telefono no 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 vi invito ciao